I 30 anni del telefono donna dell'Udi verranno festeggiati anche domani con un ospite speciale, Lella Costa. Qual è il programma della giornata? Sì, dunque domani alle ore 17 nella sala della provincia l'attrice Lella Costa sarà ospite di questo incontro pubblico che abbiamo organizzato come Udi della Spezia Telefono Donna proprio per i nostri 30 anni. L'attrice che non ha bisogno di presentazioni perché tutti la conoscono, è sempre stata impegnata anche sui temi civili, a favore delle donne, ha fatto varie trasmissioni televisive e quindi è molto conosciuta, parlerà a ruota libera e offrirà un saggio anche della sua bravura teatrale con i suoi monologhi, farà alcune riflessioni sul tema ovviamente della violenza contro le donne e del femminicidio che sono temi purtroppo di grande attualità anche ancora oggi. e quindi invito ovviamente tutta la cittadinanza e soprattutto le donne spezzine a partecipare a questo evento che è proprio un regalo che Lella Costa fa all'Udi, a cui è molto legata, e a tutta la città ovviamente. Di violenza sulle donne si parla soprattutto negli ultimi anni ma in realtà sono decenni, ben 30 anni che il telefono donna aiuta tantissime donne nella nostra città. Certo, infatti il nostro centralino antiviolenza è nato nel 1988 e diciamo che da allora fino ad oggi ha aiutato circa, in grosso modo, quasi 3.000 donne che si sono rivolti a noi per avere appunto aiuto per uscire da situazioni di abusi, maltrattamenti, violenza eccetera. E noi offriamo questo servizio gratuitamente, abbiamo psicologhe e avvocate che offrono consulenze gratuite alle donne che si rivolgono a noi e cerchiamo insomma di aiutarle a ritrovare la loro indipendenza, la loro dignità e la loro libertà.